Sì, non ci siamo visti. Sì, non è forte. Sì, non è forte. Non è forte. Oggi ci ha detto a mia mamma che devo preparare, e stiamo a prendere la parte sulla seconda, e ci devo dire che bastiamo è un passaggio. Non 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 è un passaggio. Lei lavora al Kaufhof, non? Per fare i soldi di guadagnare il passaggio. Lei dice, metti, dovrebbe essere libero. Ma poi scondono quella metà giornata. Lo scondono, lo chiudono, e lo scondono. Ma scondono il quotidiano peccato. Volendo, non volendo. Sì, e poi ci metto il cavaliere. Hai chiesto questa cosa? Cosa fare vedere? Ma faccio? Sì. Ma che studia? Sì, e poi non c'è la canuccia. Che è di più che sai. E' brava, no? E' buona, no? E' buona, no? E' di più che sai. Io accetto, ce l'avevo. Non è proprio chitarra. Vabbè, faccio. Tante volte cantava, Tinderella dell'Ura, mi sembra. La vedo, la vedo. Il avanti si tratta. La vedo, la vedo, la vedo. Vedo, la vedo, la vedo. No, vale un'initi. A in zou, voando. A in zou, voando. Sì, al von ciò. Grazie a tutti